E' arrivato il momento relax e divertimento perché ci sono anche delle esibizioni per voi La lascio presentare a te Eh sì, eh sì, perché adesso arriva su questo palco una mia amica Ma non è solo una mia amica, è una bravissima performer Tra l'altro certificata perché ha vinto Miss Drag Queen Italia nel lontano 2016 Però non è ancora scaduta Tra l'altro è l'ultima Miss Drag Queen Italia dell'Emilia Romagna Ci porta su questo palco un pezzo dedicato al bel canto, quindi alla musica lirica Signore e signori, arriva per voi Miss Piggy Signore e signore 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.